Ci troviamo al villaggio Santa Barbara, qui siamo al numero civico 454, questa era l'ex caserma dei Carabinieri. Nel 2009, come vi ricorderete, è crollato il palazzo in via Redentore. Diverse le battaglie tra le famiglie e l'amministrazione campisi, a un certo punto ci fu un accordo. Le famiglie di via Redentore vennero a vivere qui, nell'ex caserma dei Carabinieri. Lo IACP acquisì lo stabile crollato, buttò a terra l'edificio e doveva ricostruirlo nel giro di due anni e queste persone tornare nelle loro case. Oggi spunta un articolo sul giornale, che dovete lasciare anche queste palazzine. Sapete niente voi? No, almeno nel giornale, io ho letto stamattina e c'era scritto pure così, che ora si devono riunire di nuovo il sindaco Ruvolo per vedere la sistemazione di noi che cosa deve fare. Ma io non vedo il motivo di spendere questi soldi, 300 mila euro, perché intanto ce l'abbiamo speso noi. Aveva sette anni, quant'aveva? Quattro anni. Quattro anni, ci avevamo speso dei soldini noi qua. Perché questa era una caserma, quindi voi l'avete resa a casa. Certo, chi ci mancava il tubo dell'acqua, chi ci mancava anche il rubinetto, non c'era niente. Il comune, prima di entrare qui dentro, il comune ci ha fatto firmare una carta, ugualmente avevamo speso dei soldi a spese nostre. Non dovevamo chiedere risarcimento dei nostri soldi. E noi abbiamo consentito di restare così, sempre nel frattempo di aspettare questi benedetti due anni che dovevano fare il palazzo. Siccome lo IACP già mi ha detto definitivamente che il palazzo non lo vuole fare perché l'aria è piccola. Perciò prima lo butta a terra e ora mi viene a dire che l'aria è piccola. Io di qua non esco più. Lei prima mi diceva a luglio si era diffusa la notizia che dovevano farci andare via di qua per creare un centro. Avevano già individuato cinque alloggi. Il giornale io ce l'ho conservato, quindi non è una cosa che sto dicendo io, ma bensì una cosa che è stata scritta. Un centro per cosa? Un centro culturale, molto probabilmente vogliono buttare fuori a noi per mettere gli extracomunitari. Si sono sbagliati. Una volta ne potete buttare fuori di casa, se con una volta non succede proprio. Noi, anche se loro ci dicono che noi ce ne dobbiamo andare, noi ce ne andiamo. Loro lo sanno che noi siamo stati persone per bene ed educati dall'inizio alla fine. Però prima che loro vengono qua a bussare le porte, che ci trovino all'alloggi, perché noi abbiamo un atto notarile e una carta firmata dal Comune che doveva ricostruire. Perché noi con l'OIACP non abbiamo niente a che fare, come dice sempre l'OIACP. Perché noi tutti gli accordi li abbiamo fatto con il Comune. Quindi se il sindaco Ruvolo vuole venire, noi siamo ben disposti a trattare. Signora, lei vive pure qui, non è un ex residente di Via Redentore? Non sono un ex residente di Via Redentore, ma sono una vendediritto da anni e anni in gradatoria, che in situazione di pericolo dell'alloggio dove abitavo mi hanno messo qui provvisoriamente anche a me, aspettando che si liberasse un alloggio da darmi definitivamente. Questo non è successo. Io ora sono tra l'altro anche in gravidanza, ho due figli minori. E stamattina a prendere questa notizia devo dire che è stato un vulmine al Cessereno. Io sono stata pure male, perché... No, va bene.